Devo parlare con voi. Che succede? Niente, quello che succede, poverina, è che sta molto male. Perché smettila, per via della sorellina. Sì, sì, sì. Devo dirvi una cosa molto grave. Che? Cosa? La verità. Devo dirvi la verità. A quale verità ti riferisci, Sofì? Su Delfina. Tutti sanno che Delfina sta male, piccola mia. Lo sa persino lei. Non riesce a sopportarlo, non riesce a digerirlo. Lasciatela parlare. Avanti, che cos'è che ti fa stare male? Che cosa succede? Poco fa, poco fa, ero in cucina. Sì, di là in cucina, stavo là. Malala, per favore, lasciala parlare, lasciala parlare. Delfina. Aia, aia, mi sento male. Cosa succede? Mi sento male. Sofia! Oh, santo cielo! Sofia. Sofia. Anche l'altra mi spiega, tesorata. Mi prendi, Sofia. Perché mi hai abbandonato, signore? Grazie. Scusa, che cosa volevi dire con Delfina, una vita lunga e tutto il resto? Quello, che Delfina vivrà più a lungo di te e di me messi insieme. Quindi dici che sta mentendo, che non è malata. No, io sto dicendo che... che guarirà. Qualsiasi cosa abbia, guarirà. Puoi stare tranquillo. No, non sto affatto tranquillo. Qual è la cosa terribile che tu e quelle zingare avete visto nella mia mano? Non lo so, Franco. Magari lo sapessi, ma non so che cosa sia. Io, la sola cosa che ti chiedo è che ti prenda cura di te. Perché qualcosa di brutto succederà. Che cosa diavolo stare facendo, voi due, chiusi in bagno? Non è come pensi. Cosa credere? Che essere come toccia romane? Greta, per favore, posso spiegartelo? Io ero qui quando... Io ero qui quando Franco è entrato. Sentiamo. Sì, sì, mi scusi, Greta, ma per favore, non è come sembra. Non lo so, per chiacchierare. Per favore, Frau Amelie, ritirarsi immediatamente mente, che io dovrei parlare seriamente con piccolo. Sì, sì, però, Greta, per favore, le ho già detto che non è come sembra. Nein, 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 mein Herr. Tu essere totalmente fuori controllo. Non rispettare più neanche bagno familiare. Basta, adesso smettila. Non farla più lunga di quello che è, Greta, per favore. Nessuna lunghezza, nein. Per domani ho pensato ad esercizi estremi, per controllare ormoni. Domani 200 attominali, 50 flessioni, 45 minuti di... Greta, Greta, basta, basta. Anche se ti costa riconoscerlo, io ormai sono cresciuto, sono un uomo. E questo non serve più, capito? Beh, via, per favore, che mi devo fare il bagno. O vuoi anche insaporarmi la schiena? No, ma... Il polso c'è ancora e respira, poverina, è svenuta. Oh, grazie al cielo, la mia piccola è viva. Credo che sia impressionata dalla mia malattia, scotta, dalla febbre. È per questo, vi rendete conto, poverina? La febbre delirava come una pazza, diceva stupidaggine. Questa è eredità di famiglia? Harry Fritz e Walden, l'aspettano. L'auto è pronta per la festa. Sì, sì. Federico, vai tu, resto con Sofia, sì? No, sì, sì che ci andate. Non dovete assolutamente perdervi l'evento per una sciocca. Allora, alzati, adesso chiamo subito Claudio, gli dico di venire a visitarla. Come posso andare a divertirmi con Sofia che sta così? Che mi può fare della festa? No, anch'io non c'entro. Per favore, Oscar, via l'autista che... Che stanno arrivando, gli dico. Certo. Allora, ragazzi. Vieni, dammi la mano. Anche tu, Federico. Andate, divertitevi, ritirate quel premio e tu, Flor. Accompagna Federico come se fossi io. Però io non lo so. Per favore, vi costa tanto darmi un pizzico così di felicità. Guardatela. Va bene, però, finiamola con questa tragedia. Per favore, andiamo, ritiriamo il premio e torniamo. Ma certo, ragazzi, andate. Se per caso dovessimo aver bisogno di voi per Sofia, vi chiamiamo. Divertitevi. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Che cosa volevi fare? Scostati, svegliati. L'ho ucciso io questa. Svegliati. Allora, non ti dà fastidio se il resto... Quello che mi dà fastidio è che Sofia mi abbia lasciato. Vai, forza. Stai su, stai su, stai su. Guarda me. Wendy mi ha lasciato e nonostante ciò sto bene. Sto bene perché lotto per recuperarla e questo mi fa stare... Sofia! Ho scaduto io. Mi apri? Ah, è aperto. Avresti potuto aiutarmi. Non vedi che ho le mani... Occupate? Wendy. Wendy, sono Nicholas. Ti lascio un messaggio perché... perché non mi hai risposto. Volevo dirti che ora so... come sarà la nostra vita insieme. Avremo un sacco di figli. Sì, bellissimi. Come te e nasoni come me. Wendy. Randy, è la tua grande occasione per essere felice. Te la farei scappare. Non la perdere, amore mio. Yuhuuu! Accidenti, Federico, che mi manca un colpo. Che emozione. Faccio io, faccio io. Non mi bastano le gambe per scendere. Ai! Aspetta. Accidenti! Non ci posso credere. Guarda che meraviglia. Grazie mille. Carino che si è avvicinato per aiutarci. Sì, certo. L'avevo solo visto nelle riviste ed ora... Ora ci sono anch'io. Non ci posso credere. Oh, mi sveglio. Oh, sveglio. Sei tranquilla. Non sarà l'unica sorpresa che avrai questa sera. Guarda che posto. Buonasera. Buonasera, signore. Mi permette gli inviti, prego. Ma certo che abbiamo gli inviti. Che cosa pensa? Bene, questo è a posto. And the winner is... Scusate, ma non potete entrare. Come? Ma che cosa le prende? Ma è matto. Prima lo invitano e poi non lo fanno entrare. Che storia è questa? Ma dove si è mai visto? Per sua informazione, il signore è colui che deve essere premiato. È l'imprenditore dell'anno. È il toro vincitore al quale appunteranno sulla giacca i nastrini colorati. Ti prego, calmati, per favore. Ma come faccio a calmarmi, santo cielo? Questo signore lo caceranno perché sta commettendo l'errore dell'anno. O c'è qualcos'altro? È per me? Mi sta discriminando? È forse così? Forse io non valgo niente! Per sua informazione, mi hanno cacciata da posti migliori di questo. Mi scusi, volevo dire che non potete entrare da qui perché la persona premiata deve entrare da una porta speciale. Ma perché non l'ha detto prima? Ci saremo risparmiati la rabbiatura. Prego, seguitemi. Mi scusi, lo prego. Potevo sapere. E non fare quella faccia. Avanti, rilassati, sciogliti, respira. Va a cercare Sofia e smettile di piangere come un bambino. Dai, coraggio. Cosa vuoi che le dica, eh? Scusa Sofia, sì, sono stato con la Siamese, devo dirle questo. Ti do un consiglio, lo vuoi? No, guarda come mi sono ridotto, persegui i tuoi consigli. Io te lo do, accettalo, ignora, lo fa come vuoi. Non chiederle scusa, non dirle niente. Vai, afferrala per un braccio. Da duro alle donne piacciono, ai tipi rudi, capisci alle ragazze piacciono. Esatto, come un vero macio. Certo, la prendi per un braccio, un po' brutale, sì, brutale. Io la ferro per un braccio e lei con l'altro braccio mi prende per il collo e mi strozza. Vabbè, non devi permettermi. Tu la blocchi per le spalle e la riporti qui, come un vero macio, che è quello che sei. Certo che sì. Sì, io sono un macio. Proprio così. Per cercarla e la riporto qui, facendola rotolare come un cocomero. Non mi parlare e non venirmi vicino, perché qualsiasi cosa tu dica io parlerò, Delfina. Sofia, guardami negli occhi. Cosa c'è? Le lenti a contatto nuove? No, non è per quello, guardami. Voglio parlarti con il cuore per la prima volta. Guarda che non sono in vena di piangere. Io ho mentito sulla mia malattia, ma è stato per disperazione. Mi stai prendendo in giro, Delfina. Tutti piangono perché tu stai per morire e tu dici che sei disperata. non meriti nessun perdono. Dovresti pensare prima di giudicarmi così severamente. Sai che significa venire derubata del tuo amore? A te sta succedendo una cosa simile con Bata. La mia è una situazione peggiore, perché perlomeno Bata ha avuto la sua avventura fuori da casa tua. Sai che significa vedere Federico dietro a Flor tutto il giorno? È vero. Come reagiresti se arrivasse una donna in casa tua e ti togliesse tutto ciò che ami di più al mondo? Perché non vorrei negare che prima che arrivasse Florenzia noi eravamo felici, eravamo molto. Felici. Anche questo è vero. Sì, ma è arrivata lei, è arrivata Florenzia, con tutta la sua sfacciataggine, con tutta la sua follia, la sua volgarità e mi ha tolto tutto quello che era mio. Tu sai quanto desideravo stare con Federico per tutta la vita. Lo sai, ricordi quando eravamo piccoline, che lui veniva a casa e io volevo essere sua amica, volevo essere la sua alleata, la sua compagna, la sua complice, qualsiasi cosa pur di stare un minuto in più con lui. Mi ricordo che se io gli parlavo tu mi picchiavi e mi rinchiudevi in bagno. Certo. E come volevi che reagissi, restando con le braccia incrociate? No, Sofia, io non sono così. Io lotto per le mie cose con le unghie e con i denti. Magari avessi anch'io la forza che hai tu di lottare per il tuo amore. Io, Bata, l'ho perso perché non ho lottato. Nonostante tutto, io adesso ho perso come te. Mi daresti metà del tuo panino. E la tua dieta? Che mi importa, tanto Federico non mi considera. Ma sono emozionatissima! Mi fa vedere la barca? È questa? È una cabina? Non entrare qui! Non toccare! Ah, com'è bella, è un materasso d'acqua! No, 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 andiamo via! Il proprietario di questa barca è proprio matto! Tra poco saremo sulla testa firma, stai tranquilla. Mi giro la testa, mi giro la testa! Non mi giro la testa, ce l'hai una pasticca! Non vomitare! Non vomitare! Dammi una scorella, per favore! Non ce la faccio più! Mi si è passata la pressione, lo zucchero, lo sangue! Guardate, 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 pensate, pensa ad un'altra cosa! Ecco, siamo arrivati! Evviva! Bene! È stato veramente emozionante, è incredibile! Queste cose le avevo viste solo nei film! Mi viene in mente il Mediterraneo! Non ci sono mai stata, ma credo che debba essere meraviglioso! È meraviglioso! Mi faccio salutare il mio pubblico, la mia gente! Tutto il mio pubblico, tutti quanti! Come una principessa, non così, capisci? È incessivo, non c'è bisogno di fare così! Sono felice! Che cos'era, un ranocchio? No, no, non era niente! Flora, per favore, guarda, sorridi! Saluta! Sorridi! Avanti! Saluta! Come se mi costasse qualcosa sorridere! Sono così contenta! Ah, grazie! Questi applausi sono per te! Che meraviglia, che meraviglia! È tutto, è tutto così bello! E sono talmente felice, Federico, che soffo! Questo è veramente troppo bello! Benvenuta nel tuo palazzo, Flora, sì! Non me lo sarei mai immaginato, mai! Sì, è vero! Che cos'è questo? Che bello! No! Cosa succede? Non posso... Non posso, Federico! Tu! Non posso camminare! Mi è rimasta incastrata la scarpa! Sono felice, pensavo su un'altra cosa! La vedi! E la fessura! Sì, l'ho vista, l'ho vista! Sono felice, ti ho remenato la scuola, scusami, scusami! Sorridi, per favore, sorridi! No, lasciami qui, Federico, tu vai! Sei perfetta, sei perfetta, Flora, fidati di me! Sorridi! Flora, guardami meglio! Oh, sì! Sorridi! Va tutto bene! Saluta! Uno, due, tre! Continua a camminare! E se mi perdo anche l'altra scarpa? Non perderai anche l'altra scarpa! Non ci pensare! Sorridi! Bene! Come una signorina! Come una principessa! Così! Bravo! Ciao! Vai benissimo! Lo vedi che ci sai fare? Buonasera! Buonasera! L'hai notato anche tu, la nuova fidanzata di Federico Fritz en Valden e Zoppa! Poverina! Gli ho visti baciarsi, Sofia! Ho visto come lei lo ha intrappolato con tutte le sue moine, capisci? Io credevo che Flora fosse buona! Alla fine non capisco, l'invidia delle donne è terribile! Perché così tanta invidia? Ma comunque, Federico non dovrebbe pensare che tu stai per morire, bisognerebbe dirgli la verità! Parlerò con Federico domani stesso, non sopporto più questa storia! Non sono d'accordo! E gli dirò anche che me ne vado da questa casa! E dove? Mi è appena venuta in mente una buonissima idea, Sofia! Quale? Andiamo via insieme! Ma tu guarda, tutto l'impiede sporco! Incredibile! Ma senza scanto! Aspetta, aspetta, aspetta! Una tartina con burro non è qualcosa di più semplice! Troppo appastecciati per me, ma te li prenderanno! Io pensavo che Federico sarebbe venuto con delfina Santijan! Non so cosa ci faccia con una campagnola scalza come lei! Eccoti! La tua scarpa! L'hai trovata! Sì, l'ho trovata! Lo sai che cos'è la scarpa dal lato del cuore? Lo sai che vuol dire questo? Io non so proprio che faccio! Che non posso vivere senza di te! Anch'io non posso vivere senza di te! Sarà carina però! Classe proprio per niente! Guardala! Ecco fatto! Mi va benissimo! Come potrebbe non andarti bene? Sei tu la regina del mio regno! No, non è vero! Sono una campagnola scalza! Come una campagnola? Sì! Perché dice questo? È così! Siamo appena arrivati! Se cominciamo a prendere qualcosa... Oh, questo per esempio! Oh, mi scusi! È stato un incidente! Sai, il fatto è che la gente di provincia e campagnoli non sanno come trattare i domestici! Vogliate scusarci? È stato un terribile incidente! Oh, incidente! Sì! Flora! Cosa? Cosa è stato? Un incidente! Flora! Beh, è stata... È stata una piccola vendetta personale perché tutti mi guardano come se fossi un ranochio in un corso! Come un occhio? Beh, sì, lo sono! Mi sento guardata, sezionata! Me ne voglio andare, dammi 5 pesos! Non nel modo più assoluto, tu resti qui! Non mi sento mi agio, mi guardano male! Non ti guardano male, ti guardano perché sei bellissima! Fidati di me, sarà una fantastica serata! Fidati di me, andrà tutto bene! Ragocchietta mia! D'accordo, va bene! Oh, guarda che cosa sta arrivando! Guarda che buone le tartine, quanto sono buone! Apri la bocca! Oh, attenta alla carta! Oh, che bello che sei! Allora, la stupida cicciona fa ancora l'isterica! Dimmi, sei riuscita a convincerla? Altrimenti prima mi uccide e poi la spello viva! Piccolo amore mio, come stai? Senti, posso capire, Delfina, ma a te non riesco ad accettarti, quindi non mi parlare perché non tollero più i tuoi sproloqui, basta! Ma per favore, tesoro, cerca di capirmi! No, non ci riesco! Sono vent'anni che cerco di capirti e non ci riesco! Andiamo, Delfina! Andiamo! Sempre confermato per domani! Sì, certo! Di cosa parlate voi due? Che ti importa? Non ti intromettere, lasciaci in pace! Sta tranquilla, non la starà a sentire! Finalmente starei dratti, andremo tutto per il meglio! Forza, avanti ragazza, torniamo a casa, Sofia! Non te lo ripeterò, torniamo a casa! Lascia, mi fai male! E la mia donna e farai quello che dico io! Io non voglio più stare con te! Perché vuoi che torni con te per poi andare con la prima che ti capita? Lasciami, batte! Non sono più tua moglie! Ti avevo detto che non volevo vederti più, quindi vai via! Vattene, vattene! Non hai sentito? Sei sordo? Che cos'hai? Vattene! Fuori da qui! Fuori da casa mia! Fuori! Ho fatto bene, Delfina! Ma certo che hai fatto bene, Sofia! Hai avuto dignità, hai pensato al futuro! Pensa a domani! Domani sarà un grande giorno per noi, Sofia! Domani! Il sole sorgerà domani, e noi aspetteremo domani! Cosa staranno combinando quelle due? Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you always stay away! No! Oh, Federico, ho fatto un sogno spaventoso! Spero non ci portino delle crocchette, perché ho sognato che mi riempivo di crocchette di semamo, cioè di sesamo e di... come si chiama? Cervello! Stai tranquilla, non ci porteranno crocchette di sesamo e di cervello! Muoio, muoio, muoio! Prego! Che cos'è questo? Che modi, in un posto così raffinato, perché ci portano una caraffa? Dobbiamo immergere il bicchiere nella ciotola come se fossimo maiali? Io continuo a bere la gazzola, grazie mille! Flora, calma, ti sta andando bene, stai andando bene! Federico, sono talmente stressata che mi sento tutta sudata! Non ce la faccio più, non ce la faccio più! Cosa? Cosa? Vorrei morire! Guarda cosa è successo! Mi hanno messo un sacco di posate, si sono sbagliati! E questa pinza? Devo chiamare Violetta per sapere che cos'è! Questa è una pinza da parrucchiere, Federico, serve per fare l'icchiere! Stai firma, non è una pinza da parrucchiere e ti spiego io a cosa serve appena ci portano quello che ci devono portare! Cosa ci devono? Lumache! Santo cielo, animaletti del cielo che si trascinano per il mondo! Come possiamo essere così cattivi da mangiare? Che pisco, ma direi che adesso basta, eh! Era una vita che non mangiavo lumache, sono buonissime! Assaggiali, tesoro! Grazie, ma non ho fame, tesoro, scusa, ma non lo mangiavo! Sì, sì, capisca! Ti senti bene? E tu? Non riesco a non pensare a Sofia! Signore e signori, buonasera e benvenuti! Grazie! Ora è giunto il momento di passare alla ragione per la quale ci troviamo qui, in questa bella, fantastica serata! Stiamo per attribuire il prestigioso premio all'imprenditore dell'anno 2004! Al signor Federico Fritz & Mulden! A consegnare il premio la sua fidanzata, la signorina Florencia Santigiano! Dai, dai, dai! No, no! Non puoi perdere così! Non so che cosa mi succede, ho perso la mano! Non so cosa mi sia successo! Avrei perso la mano con il flipper, ma nel ballo... Mi piaci molto quando... quando balli! Sei così sensuale! Così bella! Ehi, che ti prende? Che c'è? Niente, che... Che mi piace, Franco! Mi piaci molto! Ma a volte ho molta paura! Io ti faccio paura! Ah, no, non tu! In realtà ho paura di me, perché... Ho paura di ostacolarmi l'amore e la felicità! Io vengo da una famiglia molto strana! Ah, sì, perché la mia... È una famiglia molto normale! Sai cosa penso? Cosa? Che noi... Non so, la nostra testa è come... È come un flipper! Abbiamo una pallina dentro, pin, 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 che rimbalza tutto il giorno! Qualche volta ci va bene, ma moltissime volte no! E la cosa peggiore è che così perdiamo molti punti! Sei d'accordo? Sì, ma io... Non ci penso a perderti! Ah, no? Mi è molto chiaro! Non ti lascerò andare! Sei sicura? Sì! Mamma! Molto sicura! E vai! Mamma, mi porti a letto, ho sonno! Sì, hai già il pigiamino! Ero venuta di qua a cercare un libro di storie! Questo si intitola Il Principino! Andiamo a leggere questo, vuoi? Sì, e se non ti piace quello, io ho tanti altri racconti ancora! Benissimo! Andiamo? Andiamo! Oh, oh, sì! Uno, due, tre... Ah, sì! Signore e signori imprenditori, prima di tutto buon appetito! Spero sia tutto ottimo, perché ci sono volute in cucina ore e ore per realizzare dei manicaretti che soddisfacessero il palato e vi restassero nel cuore. L'industria nazionale, cari compagni, anzi, lavoratori! Lasciamo da parte il protocollo e parliamo con il cuore, perché è con questo che un imprenditore mi deve ascoltare... Ehm... Cosa posso dirvi io? Su Federico, l'imprenditore che tutti voi conoscete, non riesco neanche a contare le quantità di imprese che possiede, perché è milionario! Non riesco a contarle con le dita delle mani e neanche con quelle dei piedi! Ehm... Voglio dirvi una cosa molto importante, ed è che... Dietro quella faccia da freezer antipatico, il freezer nella vita privata... Non diteglielo, altri qui ti si nervosisce, guardate come diventa rossa! Ehm... E lui, può anche fare quella faccia da bulldog, da uno cattivo, del tipo che ti verrebbe voglia di dirgli, ma vai, vai, ma che mi porta di te, no? Io più di una volta l'ho mandato a farsi friggere, però... in realtà ha un cuore d'oro, ed è una persona realmente impressionante. Le vicissitudini della vita lo hanno lasciato con i suoi fratelli sulle spalle, e lui, poverino, si è fatto in quattro, ha dato l'anima, per non dire un'altra cosa, per far sì che i suoi fratelli potessero avere un bel abbonire. E non mi riferisco dal punto di vista economico, perché i soldi vanno e vengono, e a voi che siete qui vengono più che vanno. Sì, ma... Bene, a me piacerebbe parlare dei suoi sentimenti. Sapete perché? Voglio dire a tutti voi che Federico è una persona, sì, come dire, di ferro, ma è anche un amico. Il biscottino più buono del mondo, con molto rispetto per i produttori dei biscottini, sì, insomma, di tutti quelli che sono qui con noi, e anche, niente, che sono molto orgogliosa, e non riesco a contenere l'emozione nel dire a tutti voi che sto per consegnare questo bellissimo premio, che è un piatto, un piatto, un piatto! Ma lo sa quanti siamo in famiglia? Dai, un piatto, ma che schilacci! Beh, uguale, prendilo anche se non serve a niente. Poi è il pensiero quello che conta, no? Un applauso enorme per lui! Vai, un bel discorso! Vai, un bel discorso! Vai, un bel discorso! Si deve parlare qui dentro. Grazie. Scusate, grazie, Ettore. Grazie. Carino. Per concludere questo incontro, diamo la parola alla signora presidentessa della Camera degli Imprenditori. Oh, mia cara, dolcissima, è un vero piacere. Buonasera. Sono molto emozionata. Un brivido mi corre lungo la schiena. È tutto meraviglioso. Dobby, quando ha fame ti chiama. Datti la sua carotina. Dobby ama essere spazzolato. Ma se senti un rumore improvviso, si spaventa e si calma solo con le tue coccole. Profi. Vero, davvero. Ciccio bello ha la bua. Ha tutte le guance rosse. Forse ha la febbre. Proviamo con lo sciroppo. Eh no, qui ci vuole la punturina. La bua non c'è più. Ciccio bello bua ha sempre bisogno di te. Giochi preziosi. La felicità è cavalcare verso nuove avventure con Chicco Rodeo. Dondolarsi e con il sistema regolabile sulla crescita. Scoprire l'emozione del galoppo. Chicco Rodeo. L'avventura di crescere. Chicco, dove c'è un bambino. Vuoi diventare un cavaliere mediovale e vivere una fantastica avventura d'altri tempi? Con Medieval Moves puoi. PlayStation Move. Il divertimento è per tutti. Ragazzi, è arrivato il nuovo DVD di Colorado. Yeah! Il DVD è colorato come registro di Belen. È pieno di contenuti speciali. Compretelo! Sì! Un'altra vittoria per Saetta McQueen. E sale verso il podio per la premiazione. Un salto da Filmor per fare il pieno. E un cambio gomme da Luigi. Poi via verso un'altra corsa mozzafiato. Quante avventure con il garage di Cars 2. Entra nel castello dei sogni. Scopri la magia delle principesse Disney. Nel castello dei sogni. Scopri la magia delle principesse Disney ed entra insieme a loro nel castello dei sogni. Entra nel meraviglioso mondo Winx. Il castello di Alfea. Dove la magia diventa realtà. Dove Bloom cambia abito per te. Dove tutto è magia. Castello magia di Winx Club. Giochi preziosi. Winx Club. Il grande castello delle Winx. Il diario Yellow Kitty è super segreto. Digita il codice e scrivi i tuoi segreti. E con l'incantevole fashion set custodisci i gioielli di Yellow Kitty. Diventa anche una borsetta. Yellow Kitty. Il tuo mondo in rosa. Vivi le avventure di Geronimo Stilton con la tua PSP. Ti aspettano tantissimi giochi, indovinelli e un sacco di sfide. Geronimo Stilton nel regno della fantasia. Il videogioco. Solo su PSP. Ha un prezzo incredibile. Vectron Wave. Il nuovo rivoluzionario oggetto volante. Devi solo usare le tue mani. Nessun telecomando. Lo lanci e lo controlli come vuoi tu. E se attedi il dispositivo di ritorno automatico, lo riprendi e rinizia a giocare. Vectron Wave. Il potere del volo è nelle tue mani. Da Mach 2. Fido Pupù. Giochiamo con lui e vedrai che succede. Gli dai la pappa, tiri il dado e poi premi il minzaglio. Ehi, ma cos'è questo suono? Venti tu se raccogli la Pupù. Fido Pupù da Mach 2. Sto male. Le ragazze mi hanno trattato male, quasi mi uccidono. Ma sei andato da lei comportandoti da Mach 2 come ti avevo detto? Non lo vuoi finire. Puoi smetterla di fare il saccente, per favore? Sembrava di essere il panjimbo al di Rocky 5. Pum, pum. E tra l'altro Sofia ha parlato di un viaggio. Non lo so, non lo so. Sì, voglio morire. No, no, no. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Nicolas, davvero divini così i capelli, lo sai? Abbiamo un problemino qui. Un problema? Raccontamelo e mi butterò tra i leoni. Ah, sento bene. Eh, ma ti non vedi che sta male, sta piangendo. No, 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 non sono io che ho il problema. Ma il problema è di Bata, Sofia, lo ha lasciato e non sa come recuperarla. Beh, a volte noi ragazze siamo un po' stupide, no? Un po' insicure. Ma ti dico qual è la cosa più efficace per recuperarla. Tu devi farla ingelosire, capisci? Lei deve rendersi conto che ti può perdere per un'altra. È una mossa molto efficace sulle donne. È così come dico. Mi hai capito? Poveraccia. Non è capito niente. E allora il coccodrillo si accorse che nessuno credeva alle sue lacrime. Sapete perché? Perché era cattivissimo come Delfina. Non parlare in questo modo, Thomas. Perché vuoi bene alla strega? No, non le voglio bene. Ma Delfina non sta attraversando un bel momento, credimi. Perché? Sono cose da grandi. Dai, e allora che succede con il coccodrillo? Ah, sì. Nessuno credeva alle sue lacrime. Perché erano lacrime di coccodrillo. E tutti a questo punto vissero felici e contenti. Si sono addormentati come angioletti. Andiamo, dai. Non sapevo che fossi così bravo nel raccontare le fiabe, eh? Più o meno. Mio padre sapeva raccontare bene le fiabe. Lo faceva sempre. Sul serio? Ti manca? Sì. Ma io sento che lui è accanto a me. È un po' strano. Io sento comunque che loro sono qui con noi. Sicuramente. Vieni, abbracciami. Ti abbraccio. Mi prendo cura di te. Ti voglio bene anche se tu mi lasci. Non ti devo lasciare? No. Beh, sì, è possibile. È che in realtà io ho sempre vissuto senza avere fiducia. e a volte mi costa rilassarmi. Ah, sono così stanca. Mi fa male tutto. Anch'io sono morto. Perché non ho un massaggiatore in questa casa? No! Sono tutto contratto. Ti ho capito. Tu lo stai dicendo perché sai che io ti farò un massaggio, vero? Ah, sì. Per favore, fammene uno. Per favore. Vediamo, cominciamo prima da qui. Vieni qui. Oh, tesoro, sono così felice. Ti sei guardato intorno le luci, le decorazioni, gli abiti delle persone. Sembra una favola. Sì, sembra Cenerentola. Ma non è una favola, Flora. È la realtà. No, 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 no. Una cosa? Non baciarmi perché sto male. Penso a Delfina che è triste, sola, non lo so. È stata lei ad insistere perché non mancassimo. Per questo mi sento in colpa. Ti devo dire, mi preoccupo sempre per lei. Bene, allora fammi un favore. Fai così, dimenticati di tutti, di tutto il mondo. Pensa solo a noi due e nient'altro. Sogna con tutte le cose belle che ci accadranno. Io ho sempre sognato che noi due saremmo stati insieme. Ma non avrei immaginato che sarebbe stato così. Anche per me è un sogno. Un sogno che si è avvelato. E questa è la serata più importante della mia vita. Ah, è ovvio. Sei l'imprenditore dell'anno. Ma non mi riferisco a quello. Mi riferisco ad un'altra cosa. Parlo di te e di me che vogliamo in questa sala. Come se non ci fosse nessun altro. Non hai l'impressione che non ci sia nessuno, che siamo solo il flore. Oh, il mio biscottino ti mangerei. La morte sperò tanto sanno Lo supe quando devi Mi amor, ti sogno in tantos sueños Estas aquí Mi amor, ti penso tantas veces E già te riconosci Mi amor, ti invento desde siempre Ciao, buongiorno ragazzi Come state? Quanto siete grandi, forti, ogni giorno Come avete dormito? Bene? Sembrati più cresciuti? Come è andata ieri sera? Come è andata, Flor? Non riesco a spiegarvi quanto sono stata bene L'allegria, l'emozione È stato tutto bello, delicato, piacevole Ho ballato, parlato Ho fatto un discorso, tutto bellissimo Hai ancora la febbre? No, non ho più la febbre Su, raccontaci qualcos'altro, avanti Gli invitati prima mi guardavano con una faccia orribile Tipo, che cosa ci fa qui questa pezzente? E dopo con la musica, tutti a ballare La cravatta qua, tutti pepepepepepe Un'emozione E una tristezza Quando ho visto che il povero pulcino Buongiorno Com'è andata ieri sera? Male, male È stato tutto molto noioso, molto triste La festa, gli invitati Erano davvero monotoni Sinceramente non ti sei persa niente Non mi sono divertita E... E niente, non lo so Che ti succede? A me non succede niente A te, forse No Che cosa c'è? Hai un bel viso, Delfina Oggi è quello per andare a fare un giro Sì Buongiorno a tutti Come va? Buongiorno Non c'è un po' di caffè? Un caffè anche per me? Fammi vedere il giornale Cosa? Che bella foto Che cos'è? Buoni, guardo io Voglio vedere anch'io Non è niente di importanza Delfina, è il gol dell'Under 21 No No, che vuole Fammi vedere Fammi vedere, dai Guarda che bella foto Tu mi sei venuta bene Sembra che il tuo io represso ieri sera si sia svegliato, eh? Mi vuoi spiegare cos'è questa, Florenzia? Che cosa orribile vedere i miei occhi Vergogna, scomparite subito da faccia di terra Svegliare e alzarsi subito Perché qualcuno potrebbe vedere Presto Franco, scommi Lasciami spiegare Cosa c'è da spiegare? Che vi siete baciati per dimenticare? No, stavamo ballando Hai questo sarebbe ballare No, lasciami parlare Sentiamo, dimmi. Eravamo... Questa foto è truccata perché è un po' strana, non è stato così in bacio. Flora, la foto è perfetta, è chiarissima. Non essere ipocrita e dimmi che ti sei baciata con Federico. Sofia, che cosa ti prende? Lo sai quello che provo per lui. Lo sai. No, non lo so, Florenzia, per favore. Stai rovinando la vita a mia sorella. Lei era fidanzata con Federico, ma tu ti sei messa in mezzo e lui l'ha lasciata per te, o non è così? Sono venuti bene, no? Ah, sì, sono bellissimi. Guarda, lui, il signor Federico, sembra veramente un principe. Guarda l'abito che ha. Sì, sì, è molto raffinato. Molto raffinato. Sembra una favola. Senti, senti cosa c'è scritto qui? L'incredibile e romantica storia della bambinaia che si è innamorata dell'imprenditore più ambito. Ma che dice? Non sai niente. Sofia, hai visto la foto di Federico e di Flor? Ah, ehi, che bello che ora sia alla luce del sole. Bello per chi? Per delfino o per te? Eh, no, voglio dire, io pensavo che tu saresti stata contenta di questo. No, non sono contenta, il tradimento ti rallegra a me, no. Parlando di tradimento, c'è Bata perché rivolgo le mie cose e non voglio vederlo. No. No! Ihole! Ihole! Ma, Sofia, io... Sei un traditore. Che ci fa questa ragazza qui? No, no, non è come pensi. Io... Gioco, hai venuto qualche... Chiudi il mio! No, no, Sofia! No, no, no! No, 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 no! Così l'ammazzi! Lasciala stare! No! Amelie, ti chiedo scusa, ma cerca di capire. No, no, scusate, scusatemi. Il mio fratello, Franco e Greta. Per favore, per favore, scusatemi. No, tu non ci... No, scusami tu, a nome di tutta la famiglia. Er, Federica, io... Aspettate. Potrei spiegare... Lascia fare a me, è una questione che riguarda me, grazie. Non è una questione che riguarda te. È per me. No, riguarda tutti. E voi due, ascoltatemi bene. A te ti dico una cosa. Che non succeda più qualcosa in questa casa, soprattutto che non lo venga a sapere dopo. È chiaro? Ja, Er, Federica. Ci manca solo che tu le metta un cartello con suo scritto spiona, povera Greta. Grazie, Greta. Con permessa. Per quanto riguarda me... Aspetta, per quanto riguarda me, cosa? Che mi vuoi dire ora? Mi vuoi dire la stessa cosa che hai detto a Nicholas, che non ha trascorso la notte qui e non sai neanche dove sia finito. Calma, calma, calma. Se tu stai insinuando che io ho cacciato Nicholas, ti sbagli di grosso, è lui che se n'è andato. No, lui se n'è andato perché stufo di sentirti. Chi ti credi di essere? Facci vivere in pace, per favore. Come che mi credo di essere? Sono il fratello maggiore, sono le responsabili di questa famiglia. Dovresti fare in modo che fossimo felici in fondo, o perché tu non sei felice neanche noi possiamo esserlo, eh? Franco, non ribaltare le cose, non stiamo parlando di me, stiamo parlando di te. È che sei tu il problema, ma non te ne rendi conto. Mi stai prendendo in giro, lo sai qual è il problema? Sì, ma tu... Eri tu che stavi a letto con tua zia, con i tuoi fratelli vicini. Ma, te, cospettila con la storia della zia, per favore, e poi in amore l'età non conta, non lo sai questo. Basta, non nasconderti dietro questi luoghi comuni, sai cosa esiste? La decenza! Ci sono i tuoi fratelli di là! Ma stai dando dell'indecente a me o a Meli? Tu pensi che a Meli sia indecente? Dobbiamo continuare a ribaltare le cose, non sto dicendo che tu sia indecente. Sì, ora ti parla, ora parli con lui, perché io non voglio più parlare con questo troglodita. Ehi, pettinati, se devi uscire... Mi faranno impazzire, completamente. Completamente. No, no, credo proprio che impazzirai tu da solo, non c'entrano i ragazzi, guarda qui. Questi avvoltoi. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore! Questa me la paghi? Tu vuoi davvero farmela pagare? Filippa, la mia gemella e io la stiamo e avanziamo per distruggerti, Zavria! E questa è la gemella, Bata, l'hai portata già una volta e ora ancora! Amore mio, calmate un po'. Non mi voglio calmare, non ci posso credere, vado via da casa una notte e ti faccio subito questa vagabona! No, non ha fatto niente, è venuta a salutarmi ed io le ho detto che io sto con te, che io sono fidanzato con te, amore mio! Tu eri fidanzato con me, Bata, perché se hai questi gusti è un tuo problema e non voglio stati accanto. No, non ce l'aveva, dico un po' che voglio, stai calma, è molto meglio se ora ci lasci da soli, te lo chiedo per favore. Tu! Sporcazzona, lo pulisci tu il negozio! Smettila, smettila, non buttare altra benzina! Amore mio, amore mio, non è successo niente con la gitana, te lo chiedo per favore, non è successo niente! Ti credo, credo, comunque che sia successo o meno io non voglio più stare con te, finisce qui. Con permesso vado a prendere le mie cose. Amore mio, avanti, dai, dammi un'altra possibilità! Sto dicendo sul serio, non venire a cercarmi perché sto dicendo sul serio, è finita! Sì, Luciana, amore mio! Dai, stai tranquilla, non ti preoccupare per i soldi, mi occupo io di tutto, sì? Va bene, no, anche i vestiti te li mando con un radiotaxi. Restiamo così, Luciana? Un bacio enorme, ciao, ciao! Sophie! Defina! Sì, come stai? Senti, ho già fatto i biglietti del pullman, sai, perché non ho molti soldi e non voglio essere in debito con Federico. No, 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 va benissimo, dove andiamo? In Brasile, non eravamo d'accordo così? Sì, sì, è che sono un po' nervosa, senti, vengo a casa e ne parliamo meglio. No, 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 non venire a casa perché mamma sospetta qualcosa e se ci vede insieme non ti lascerà uscire, allora ci vediamo alla stazione. Va bene, hai già parlato con Federico. In questo preciso istante sto entrando nello studio, dopo ti raggiungo subito. Ah, Sofia, ti voglio bene. Anch'io ti voglio tanto bene e se questa brutta storia ci servirà per avvicinarci, sia la benvenuta, no? Ma certo, così si parla, sorella. Ti voglio bene, un bacio. Piccolo delfino, amore mio, non mi hai più raccontato, sono curiosa. Come hai fatto fuori modo che quella stupida di tua sorella non parlasse? No, nessuna stupida. Come dici? Niente, ho parlato con Sofia da sorella a sorella, da donna a donna e ti sorprenderai. Ma lei mi ha capito. Questo vuol dire che la cicciona non aprirà il becco? Si tapperà la bocca e non dirà nessuno tutto quello che sa? Grande delfina, come sempre, vita mia. Sì, lo so, lo so, lo so. Bene, approfitto un po' per dare un'occhiata al giornale. No, aspetta. No, no, che ci sono delle foto molto belle di Napoleone e i ragazzi ne hanno bisogno. Bene, togli le foto di Napoleone e dammi il giornale, dammi il giornale. No, 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 è l'elezione giornale. Ditto, è lì. Perché tanta confusione per un po' di pezzi di carta che dicono sempre le stesse stupidaggini? Hai ragione, tenetevi il giornale, vado dal dottor Chihuahua. Perfetto. Che faccia qualcosa per il suo bene. E ne vado a ritemprare lo spirito. Delfina Santigiani. E voi? Ha fidanzato l'ha lasciata per la bambinaia? Per favore, non dite stupidaggini. Guardi questa foto. Oh, 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 oh. Florencia, ma c'è la risponda! Si, andate via! Poezia! Andate via! E' te che dovrebbero arrestare, non ti vergogni, eh? La mia povera piccola sta morendo come uno scarafaggio e voi due ballate sopra la sua tomba! Delfina non è morta e neanche morirà, non parli così! Basta! Delfina, ti giuro che quella foto è truccata e falsa, non ci siamo dati quel bacio! Delfina, Delfina, per favore, lascia che ti spieghi, andiamo, ti prego. Non spiegarmi niente, Federico. Ti ho perdonato molte cose, ma questo non te lo perdonerò mai. Delfina, ascolta. Questo ha avvicinato la morte della mia povera piccola. Non avete vergogna. Piccola, Delfina! Nicola, sei un'altra cosa? Come puoi chiedermi di fare una cosa simile? Siamo amici, solo amici. Gli amici si aiutano tra di loro. Ma tu lo sai che io provo qualcosa per te e che tra di noi... Valentina, Valentina, veramente di questo ne abbiamo già parlato centinaia di volte. Come coppia saremmo un disastro, non funzionerebbe. Non riesci a rendertene conto? Perché è un disastro? Mi piace un sacco e poi mi fa molto male il fatto che tu mi voglia usare per fare ingelosire quella morona alla tua ottica. Va bene, eccola, un bacino, un bacino, un bacino, te lo chiedo per favore, un bacino, soltanto un bacino. Se ti bacio è solo perché tu veda cosa stai perdendo, hai capito? Un bacino. Federico. Emily. Senti, non è il luogo più adatto, ma vedi, io vorrei sapere, senza l'intenzione di intromettermi nella tua intimità, cose che provi per Franco. Va bene, va bene, vuoi che parliamo di questo? Sì. Bene, quello che io provo per Franco è che lui mi piace e che io piaccio a lui. Già. E ci piace molto stare insieme e lo so che non ho fatto una bella cosa, Federico lo so, lo so, ma non ho potuto evitarlo perché è difficile da spiegare se non ti è mai successo. Non dargli spiegazioni, lascia stare, lascialo con la sua frustrazione, il suo rancore e tutte le sue stupidaggini. Lui si preoccupa solo degli altri. No, ti sbagli, non penso a cosa diranno gli altri, voglio solo che tu non soffra, Franco. Ah, sì, e tu lo dici a me, tu sei un bel esempio. Piangi ad ogni angolo per Florenzi e lasci che Delfina resti in questa casa. Perché, Federico, sentiamo, per essere responsabile di una malattia della quale non hai colpa? Questo è un buon esempio di non soffrire per amore. No, hai ragione, non è un buon esempio, non lo è. Io, Federico, se è necessario, io me ne vado da... No, non te ne vai da questa casa, è anche casa mia questa. E anche se a lui non piace, tu resterai qua. Sì, hai ragione, è vero, questa è anche casa tua. Ma... Sto morendo dalla vergogna, Franco, io... Stai tranquilla, doveva saperlo, doveva saperlo. No, no, non è così, io non voglio che si sappia, perché ti avevo detto che dovevamo stare attenti, che questa storia è pericolosa. Perché? Perché dobbiamo stare attenti? Ormai è fatta. Non voglio che lo sappia nessuno, Franco, per questo... Morirò se Ramiro viene a saperlo, io morirò, capisci? Non voglio che sappia che stiamo insieme. Sofia, tesoro, come stai? Io sono già qui alla stazione dei Pullman. Sì, sono venuta un po' prima per comprare delle caramelle, delle riviste, così spettacoliamo. Sì, banchina, nove, bacini. Ciao, amore mio bacini. Che noia. Con chi parlavi, piccola? No, ti chiedo per favore di non indagare, mamma. Lo sai cosa stavo pensando? Non ne posso più, non insistere! Non insistere! Non insistere! Di cosa parli? Non lo farò, non lo farò! Oh, piccola mia, vita mia, non puoi permettere che uno scandalo così spaventoso ti abbatta tanto, amore mio. Ti devi operare, sì, ti devi operare, devi stare bene, tu devi stare bene, amore mio. Senza Federico la mia vita non ha più alcun senso, quindi non mi opererò. Non seguirò nessuna terapia scorta, te l'ho la sola cosa che voglio fare, è stragiarmi su questo letto e aspettare che la morte venga a prendermi, ho perso tutto quello per cui ho sempre lontano. E' da tanto che sono qui e non ti ho vista salire, comunque dai, ci siamo, andiamo, eh? Scusa? Ma tu non sei mia sorella! Non c'è modo di mandare via i paparazzi della veranda, eh, Fritz & Walden? Non se ne vanno neanche a cannonate! Senti, ti chiedo per favore di uscire e di dirgli che nessuno rilascerà dichiarazioni, che vadano via o chiamo la polizia! Va bene, e se non mi ubbidiscono, prendo la pompa dell'acqua e faccio un bel bagno a tutti, verrà? Mi scusi, ti ho permesso. Hai parlato con Delfina? No, ci ho provato, ma non mi ha dato ascolto. E tu? Ho sentito la cosa peggiore che potessi sentire. Mi sono accorta che siamo i cattivi del secolo. No. Sì? No, no, non siamo affatto cattivi. Ascoltami, ti prego. Non l'abbiamo fatto apposta e poi è stata lei ad obbligarci ad andare alla festa. Ma non ci ha obbligati a baciarci, Federico. Ma non l'abbiamo fatto apposta. Flora. Delfina sta morendo. Delfina sta morendo, sta male e noi facciamo festa. Non possiamo essere così. Siamo due pessime persone, ci meritiamo il peggio. No, non ci meritiamo il peggio, no. No, assolutamente. Noi ci vogliamo bene con tutta l'anima e non possiamo fare niente contro questo. Deve essere la cosa più importante. Davvero? Sì, davvero. Non più di Delfina. Federico, se mi vuoi veramente bene, e io so che è così, devo chiederti di... Promettimi. Promettimi una cosa. Dimmi. Promettimi e dopo te la dico. Te lo prometto. Dimmi. Giurami che farai... ...quello che ti dico. Mi stai facendo diventare nervoso. Sì, te lo giuro. Che cosa? Noi ci siamo comportati molto male. Abbiamo fatto molto male a Delfina. E dobbiamo pagare per questo. Per questo voglio chiederti... ...di... ...di sposarti con lei. Come quello che hai sentito. Sposati con Delfina. Pobre ero ricco che tanto tiene Che già non sape lo che non tiene Le faltan sueños, le faltan gana Le faltan tempo, le faltan l'alma Le sobra il miedo di perdere algo Le sobra il filo, le sobra la panza Le faltan tempo di speranza Le faltanери ma ministra Le faltan l'alma Le faltan discussedamaran Le sobra la panza La denuncia